Ok, allora per le ultime tre fishers ho bisogno di voi su le mani! Anche in fondo, ora lanciamo anche in fondo. Ciao Roma! Gli amici di Roma che mi dicono che sono anche tanti. Secondo me c'è anche tanto Napoli, vero? Le lanciate? La fanno desiderare, è giusto, no? Eccola! Oh, Pia, però tu mi stai guaiando a provare la serata, è bello. E tu le magliette, eh, avuta. Qua noi facciamo un po' di qua, un po' di là, un po' di qua. Ci sta per tutti, stai per me! Grazie! Grazie alle nostre Angel! Grazie Angel! Allora, volevo ricordarvi, le immagini e i filmati di questa sera potete scaricarle sul nostro sito che è www.studio54network.it Chiedeteci l'amicizia su Facebook e soprattutto, soprattutto, stanno parlando, non penso che... Hai ragione, no, hai ragione. Soprattutto collegamento con Instagram, studio54, events, trattino e basso, events.